dedicata alle donne di tutto il mondo che mi serve ogni mattina fino alla sera e io voglio bene a te oggi vi ho voluto dedicare questa canzoncina a cappella perché è una festa importante la festa delle donne le donne di tutto il mondo compreso le donne lesbiche le donne gay eccetera 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 che vi seguono sempre con affetto dalla mattina alla sera non l'ho fatta lunga perché volevo dirvi due parole oggi si regala la mimosa beh su questo io non sono d'accordo sapete perché? preferirei un fiore normale quant'altra cosa qualunque cosa ma regalare una mimosa è come strappare un braccio a un albero di mimosa che sta nella natura quella natura che noi uomini dovremmo rispettare il fiore ha una vita breve anche esso è un essere vivente però ha una vita breve l'albero no l'albero ha una vita lunga beh comunque è una mia opinione sarà stupida provoso decidete lo vuoi arrivederci e buona festa delle donne è tutto specialmente alle mie foro rovere grazie a tutti grazie a tutti